La presenza di segale cornuta Sentiamo il dottor Tamburi, presidente dell'associazione Granaria Emiliana. Nella mia esperienza di oltre 50 anni nel mercato granario e nell'industria della macinazione è la prima volta che vedo la segala cornuta nei nostri grani. E' noto che il fenomeno è dovuto all'annata eccezionalmente fiorosa, ma si tratta di una percentuale minima che non può destare preoccupazioni. Le poche farine pericolose sono già state eliminate, possiamo restituire la fiducia a questo grano.